Torna in gara il Manchester United, si ragazzi ancora, ancora a meno 5 ovviamente dalla zona Champions Però torna in corsa il Manchester United e lo fa battendo l'Everton per 2 a 1 Un Everton che in realtà comunque rimane in gioco fino alla fine Però ragazzi va detto che oggi, penso di poterlo dire, l'ho vista Il Manchester United è rimasto, ha fatto, anzi non è rimasto in partita, cosa dico Ha fatto una partita veramente eccezionale Oggi le Devils mi sono piaciuti molto, hanno giocato molto bene Murillo gli ha dato degli schemi ben impostati, mi sono piaciuti, hanno giocato spesso lì sulle fasce Verticalizzazioni in avanti, vi dirò sono stato molto contento Poi fra le altre cose è stata una partita molto maschia, l'arbitro fischiava molto poco E a centrocampo si è creata questa sorta di, come posso dire, di cerchio di botte Cioè sembra stato detto così, però in realtà è quello che intendo dire proprio Ogni volta che si arrivava a centrocampo c'erano parecchi scambi fisici, parecchi scambi maschi Dove chi usciva col pallone dai piedi praticamente dalla mischia teneva il pallone È un paradosso un po' particolare da capire, da comprendere Però è quello che sto cercando di farvi capire È una partita molto divertente, a me piacciono le partite parecchio Non dico cattive perché il calcio cattivo non mi piace Però le partite dove l'arbitro lascia correre, dove dà pochi falli, dove ci si mena E questo insomma è sempre molto buono perché quando poi l'arbitro va a spezzettare troppo il gioco Ogni 10 secondi, esch, 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 ogni 3 secondi mi dà anche abbastanza fastidio Quindi sono contento Va avanti lo United grazie a un calcio di rigore di Paul Pogba Anche se in realtà Pogba non segna sul rigore perché il rigore prima lo sbaglia E poi sulla ribattuta va in rete Il 2-0 invece è opera di Martial Lo United, l'ho detto, gioca molto bene Tiene, si tiene in partita Leverton prova qualche offensiva qui e lì Spesso prova a partire in contropiede ma comunque la difesa dello United fa sempre buona guardia Fin quando ragazzi che cosa succede? Succede che Smalling fa un fallo Io veramente sono rimasto, ho detto ma scusate ma perché? Ma per quale ragione? Cioè praticamente pensate ragazzi che Smalling falcia da dietro E lo prende solamente il giocatore, è entrato praticamente così con le gambe Prendendo solamente il giocatore Io ho detto ma che cosa sta succedendo? E infatti tra le altre cose Smalling si è alzato con la faccia triste E nemmeno ha detto niente, non ha conferito parola Cioè aveva già compreso lui che comunque in ogni caso sarebbe stato calcio di rigore Il rigore che ovviamente è battuto benissimo da Sigurdsson Un Everton che io non riesco a comprendere in realtà Perché ora voglio vederlo alla lunga Voglio vederlo qualora dovessi riuscire a prendere della personalità importante Che per il momento manca Però ragazzi è un Everton che anno dopo anno fa sempre un mercato importante È un Everton che anno dopo anno prende sempre una posizione importante A livello di pronostico, di classifica Però poi batti e ribatti non riesce mai a confermare le grandi aspettative Spero che quest'anno la pratica diciamo si ribalti Sono contento, sono contento Ho visto una bella partita Una partita tipica della Premier Una partita tipica perché Manchester United-Everton si è disputata un sacco di volte E devo dire che ogni anno mi riserva delle belle sorprese È ancora a meno 5 Mourinho però sta facendo la risalita Non so come andrà E la parola ovviamente la lascio a voi Domanda secondo voi Secondo voi Giuseppe Mourinho ce la farà a centrare la Champions Pensando anche che le varie Arsenal, Liverpool, City, Chelsea, Tottenham Corrono come non mai Ricordate però che ragazzi Che oggi lo United ha mangiato due punti minimo a tutte e due Tra City e Tottenham O addirittura ne ha mangiati tre a una delle due E questo assolutamente non è male Anzi Grazie per aver visto questo video Mi piace, vi è piaciuto Di se la like invece vi ha fatto cagare Iscrivetevi, mi raccomando al canale Se ancora non l'avete fatto Buonasera l'alene come sempre Ci vediamo ad un prossimo video